Buonasera Milano. La partita di oggi col Bologna era un test con diverse criticità. Prima di tutto il Bologna ha dimostrato di essere una delle poche squadre in grado di impensierire tatticamente l'Inter. Seconda cosa è la squadra che ha eliminato l'Inter dalla Coppa Italia. Terza cosa la partita arrivava con molti punti di vantaggio sulla seconda e alla vigilia di una partita molto importante come la partita Atletico Madrid-Inter che in questo momento possiamo tranquillamente chiamare la partita più importante della stagione. Quindi con un evidente pericolo di possibili distrazioni e anche ai massimi livelli direi. Veramente bravo Inzaghi nella gestione delle risorse tra gente che aveva bisogno di riposo come per esempio Lautaro, Pavare e Mkhitaryan che comunque ha cominciato la partita però poi è stato sostituito e gente che aveva bisogno di fare una sorta di tagliando come per esempio Cialanoglu e Turan. Ora molto bello il primo tempo dell'Inter che aggredisce la costruzione bassa del Bologna e Bologna va un po' in difficoltà perché comunque sia hanno perso qualche pallone di troppo dove poi l'Inter non è stata sufficientemente cinica per fare più di un gol avrebbe potuto fare almeno un paio di gol nel primo tempo però comunque sia insomma l'Inter ha dominato il primo tempo ha giocato veramente molto molto bene anche tatticamente. Splendida è l'azione che ha portato in vantaggio l'Inter con Carlos Augusto che intelligentemente non crossa piuttosto serve la corrente Bastoni in una costruzione ormai consueta tra braccetto, mezzala sinistra e quinto e Bastoni propone il suo solito cross bellissimo arcuato sul quale si avventa Bissek quasi come se fosse un quinto anche se poi in realtà lui è un terzo è il braccetto quindi abbiamo visto una cosa particolare abbiamo visto il gol di un difensore centrale su cross di un altro difensore centrale. Ora io una cosa leggere non l'ho mai vista forse ho visto assist del difensore centrale per gol dell'altro difensore centrale magari di testa magari su palla ferma però a palla in movimento io non ho mai visto una roba del genere da questo punto di vista bisogna riconoscere che Inzaghi è un vero innovatore perché io ripeto oggi magari qualcuno potrà smentirmi ma non mi pare di aver mai visto una roba del genere fino ad oggi. Bravi poi a soffrire nel secondo tempo perché comunque sia il Bologna ha aumentato molto il ritmo l'Inter ha tirato un po' i rim in barca ha fatto i cambi però poi alla fine il Bologna ha avuto un dominio territoriale ma queste grandi occasioni non mi pare le abbia avute l'unica che ricordo veramente nitida che avrebbe poi in realtà ha potuto essere una vera grande occasione poi ho sbagliato Zirzè c'è stato un recupero palla alto del Bologna su un errore di Aslani e lì poi Zirzè è molto bravo a sfruttare il movimento del compagno scegliendo anziché di servirlo di sfruttarlo appunto per fare una finta e andare lui alla conclusione però a quel punto se non lo servi devi far gol invece lui se la porta sul sinistro che comunque non è il suo piede forte anche se ha fatto dei gol anche di sinistro e fondamentalmente è più un errore suo che una parata importante di Sommer che comunque c'è sempre. L'unico appunto che posso fare è il discorso del cinismo che l'Inter purtroppo sbaglia un po' troppi gol anche se l'Inter è una corazzata ha segnato tantissimi gol e ne ha presi pochissimi eppure eppure tante volte sbagliare i gol ecco questo potrebbe diventare un problema in Champions perché in Champions magari si hanno poche occasioni sono partite più difficili con squadre più forti soprattutto andando avanti quindi bisogna che l'Inter diventi un po' più cinica e poi in coda voglio anche dire che temo che Arnautovic si sia infortunato ancora al flessore visto che se lo toccava speriamo che si sia fermato in tempo per insomma un po' di cristallo e se stanno bene Turam e Lautaro vabbè insomma si perde un uomo per le rotazioni però ecco Dio non voglia che se ne facciano male più di più di uno alla volta di questi attaccanti specialmente quelli titolari perché altrimenti altrimenti sono guai e Arnautovic si fa male un po' troppo spesso ecco questo volevo dire iscrivetevi al canale no che guardate il video e noi non vi iscrivete al canale ricordatevi di mettermi piace commentare e iscrivervi al canale un saluto a tutti